ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mio nuovo acchiappon e in effetti new entry per la mia collezione di orologi vintage per la mia collezione di longin vintage per meglio dire perché come qualcuno di voi saprà io ho iniziato una piccola collezione di longin degli anni che furono anni 50 60 70 anche 80 benvenga tutto tutto è ben accetto no sto cercando di farlo in base magari a differenziare i calibri differenziare un po l'aspetto estetico degli orologi e mano a mano che vado avanti poi studio anche le varie referenze e le implemento sul mio sito web contatori del tempo punto it dove c'è una sezione dedicata a longin proprio dove sto aggiungendo di volta in volta tutte le informazioni che mi capitano sotto mano proprio per fare un database a mio consumo che poi voglio mettere anche a disposizione degli altri questo perché perché ogni tanto trovo delle nozioni da una parte delle nozioni da quell'altra del database da quell'altra dei numeri delle e me ne savo tutti i miei preferiti per ogni volta che devo ricordarmi qualcosa devo saltare da un sito all'altro prendere le informazioni incrociarle ho detto me le faccio da me me le prendo una volta sola me le metto nel mio sito web le organizzo in maniera strutturale e logica razionale e così quando ho bisogno di qualcosa vado a consultare il mio sito che ho fatto io però ve lo metto anche a disposizione a voi perché io sono magnanimo e quindi me la metto a disposizione allora l'orologio che ho preso che ho acquistato me lo ha venduto l'amico caramaschi il mio amico davide caramaschi che si è prodigato per fare una cosa molto particolare ossia si tratta di un orologio di un longin referenza 75 15 del 1966 circa in oro cassa in oro 18 carati con il calibro 30 l lui lo ha acquistato e poi in un secondo momento si è prodigato e ha trovato separate scatola il libretto di garanzia senza la garanzia firmata e il cartellino di quella referenza proprio scatola garanzia e cartellino l'ha comprati poi ha preso la ha cercato la fibbia corretta placata oro per questo modello qua l'ha comprata e ha costruito tutto questo ambaradan che vedrete adesso perché eccolo qua io ho la scatola scatola garanzia cartellino però non è un orologio fondo di magazzino nuovo di pacca che è arrivato con la costruita lui questa cosa ha comprato l'orologio ha comprato le scatola e la garanzia corretta e l'ha assemblato tutto e poi me l'ha venduto a me approfittando se ne no perché sa che mi piacciono ho fatto tutto questo ambaradan ci ha guadagnato amico caramaschi e poi io non posso dire di no quando mi trovo una cosina del genere che poi dopo non mi capita più no quindi bando alle cange diamo un'occhiatina all'orologio la scatola che poi anche tenuta bene come vedete nel suo bel pelle sembra di pelle proprio la scatola scatola blu l'interno è azzurro guardate che bello c'è anche la scrittina longin qua longin qua il tag referenza 75 15 oro 18 carati 71 mila 500 lire 71 mila 500 lire ricordatevi la cifra perché poi ci tornerà utile più tardi in uno studio più approfondito l'orologio è questo come vedete viene via con la sua pochette bella morbida quasi nuovo guardate come è tenuto bene solitamente capitano quelli ammuffiti no e sotto c'è questo simpatico libretto longin garanzia longin eccola qua proprio dell'epoca è tenuta benissimo anche questa guardate con tutte le spiegazioni le varie diciture le varie informazioni guardate guardate che bello può sfogliare con i vari importatori distributori di longin e in fondo la cosa che mi ha fatto quasi commuovere dove ci sarebbe il certificato di garanzia che chiaramente è in bianco sono presenti anche i foglietti di carta carbone per fare le copie nelle pagine seguenti a questa emozionante queste quasi commuovente la carta carbone per fare le copie prova ad altri tempi bene e questo lo mettiamo sotto gli rimettiamo qua il suo pezzettino sopra lei il suo tag lo mettiamo a posto la scatola la chiudiamo e la mettiamo via per il momento che faccio vedere l'orologio eccolo qua un bellissimo 30 l in cassa oro completamente tutto oro 18 carati guardate qualche bello guardate qualche bello corona originale e fibietta originale quella con la caffi bietta originale piccolo spettacolo e cosa devo dire un orologino del genere è un piccolo gioiellino chiaramente cinturino è completamente nuovo proprio di pacca stampa coccodrillo bello ci sta benissimo nero sul cassa oro 18 carati perfetto e il quadrante è leggermente fiorito si vede che ci sono delle fioriture ha preso che colore champagne che secondo me in origine era bianco questo quadrante comunque ha preso questo diciamo questa patina queste fioriture è vissuto come orologio è usato ripeto non è un nos il calibro interno è il 30 l lo sappiamo tutti che il 30 l è il calibro uno dei calibri più pregiati più pregiati più apprezzati dagli amici collezionisti degli appassionati perché è un calibro a carica manuale prodotto tra il 55 e 67 è anche la base per il 30 l s che quello con i secondi centrali e il 302 che a me piace chiamare 32 che la versione successiva nel quale vengono tolte le viti a un bilanciere maggiorato un pitone mobile la regolazione micrometrica insomma secondo me è un miglioramento il 32 rispetto al 302 comunque in ogni caso qui dentro c'è il 30 l longina ha prodotto questo calibro in un'epoca nella quale gli strumenti e l'artigianato erano ancora importanti erano ancora parte fondante della filosofia di longin e ha creato questo calibro puntando sulla qualità e la precisione come si vede riporta il seriale 13 milioni 124 mila e rotti che sarebbe quindi databile come 1966 occorre fare alcune precisazioni riguardo non esiste la matematica certezza che un dato numero corrisponda proprio a quell'anno come riportato dalle tabelle sul mio sito web contatori del tempo ho inserito la tabella riassuntiva no precisa bellissima il messa lì e poi ho fatto qualcosa in più sono andato man mano che passava il tempo a cercare tutti gli estratti di archivio di longin ossia quando io vedo qualcuno che pubblica un estratto d'archivio c'è il seriale c'è la data in cui è stato fatturato bene io copio sia il seriale che la data e me le metto nella mia tabella così ho fatto una specie di storico dal quale si evince chiaramente proprio dati ufficiali di longin che non è che hanno tantissima logica nel senso che si possono trovare seriali superiori che però vengono fatturati l'anno prima di quello inferiore ok quindi non è non è proprio precisamente che se c'è un numero sul calibro probabilmente sono stati prodotti in serie nel senso che sono progressivi i numeri incisi sul calibro però la vendita l'anno di uscita che poi la vendita e la fatturazione all'importatore quando l'hanno costruito un giorno prima un mese prima un anno prima quando l'hanno venduto poi al cliente un giorno dopo un mese dopo un anno dopo è stato dieci anni come fondo di magazzino quindi insomma si può datare leggerissimamente no a grandi linee diciamo questo qua dei 66 67 al massimo e ci sta c'è poi il fondello interno che è quello che ci dà un sacco di informazioni aggiuntive a riguardo di un dato orologio specie nel caso degli orologi in oro come questo qua ci sono delle punzonature che poi ci vanno ad identificare delle situazioni ben precise diamo un'occhiata a questo fondello qua che vede alcune particolarità che vi voglio spiegare anche se non dovete prendere pensando che sia univoca e valida per ogni situazione cioè nel tempo ci sono state modifiche ed eccezioni e come sempre nel vintage a volte quello che sembra non coerente poi nella realtà dei fatti è andata proprio così stiamo stiamo attenti a prendere tutto precisamente con sicurezza non è così nel vintage non è così con il numero uno spediamo il logotipo che può essere declinato in differenti versioni anche senza clessidra alata e questa è la più tipica e completa diciamo sta anche ad indicare che non è una cassa nazionale nel senso non ci sarebbe se fosse una cassa realizzata in italia ad esempio testa di martello la testa di martello che vedete al numero 2 significa che la cassa è prodotta in svizzera il numero interno identifica il produttore della cassa e in questo caso è il 141 chi è il 141 la ditta gabus che ha operato alle loc dal 1934 al 1980 anche queste tabelle quale trovate sul mio sito web contatori del tempo c'è tutto scritto spiegato il numerino dentro al martello la testa di martello a quale azienda corrisponde poi al numero 3 vedete dicitura 18 carati o 0.750 identifica il materiale prezioso oro 18 carati attenzione rogin faceva gli orologi in 18 carati in 14 carati e recentemente ho scoperto che li faceva anche in 9 carati perché i 9 carati che in svizzera in europa non vengono non viene considerato oro il 9 carati perché in gran bretagna negli anni 60 veniva considerato oro anche il 9 carati quindi realizzavano delle casse appositamente per il mercato inglese però io ho visto anche dei cataloghi nei quali era venduto mi sembra anche in germania o in italia 9 carati esistono sappiate questo numero 4 testa di donna o testa di minerva o anche elvezia certifica il fatto che sia oro a 18 carati ci sono poi altri simboli tipo lo scoiatolo la mazza ferrata che vanno ad identificare l'oro 14 carati e 9 carati e poi ci sono anche i simboli funzioni per argento e per platino numero 53 decimi identifica semplicemente che lo spessore di ogni parte della cassa è di almeno tre decimi di millimetro e questo è sicuramente il minimo per garantire una qualità di cassa di spessore ne ho visti con quattro decimi ed anche con 5 decimi che è mezzo millimetro mezzo millimetro d'oro una cassa è tanta roba calcoliamo anche questo al 6 vediamo le numerazioni e qui occorre interpretare in quanto la posizione non è sempre uguale e il numero di scritte non è sempre 3 in questo caso 75 15 è la referenza cassa ed è quella utilizzata anche a scopo commerciale nei cataloghi nelle pubblicità 375 progressivo cassa e 9 è il lotto 9 è il lotto che può essere legato anche al design del quadrante perché io ho visto uno di questi 75 15 con il lotto numero 9 che non era il mio di un collezionista e il quadrante era identico quadrante cosa significa di questa di questa cassa 75 15 hanno fatto tre tipi di quadranti almeno che io ho visto abbiamo la mia che ha la clessidra lata in oro in rilievo e il quadrante diciamo crociato con queste due linee sottili perpendicolari poi c'è quella identica alla mia ma con la clessidra alata stampata e senza croce sul quadrante e poi ce n'è una con quadrante con numeri arabi a 3 9 e 12 ho trovato riscontri su questo orologio sia sulle pubblicità d'epoca che su un catalogo in pdf dell'epoca del 68 pdf ho trovato online ci sono i cataloghi di login di quasi tutti gli anni si trovano non si trovano invece in versione cartacea cosa che a me piacerebbe ho provato a cercarli in tutte le maniere ma neppure a dire che li vendono a un prezzo esorbitante no 200 mila euro un catalogo cartaceo di login del 68 non c'è non lo trovo non c'è proprio chi ce l'ha lo tiene perché se hanno fatto i pdf da qualche parte hanno fatto la scansionatura no in questo ritaglio si vede benissimo la mia referenza da notare che si parla di 100 anni di login quindi siamo nel 1967 il prezzo indicato esattamente lo stesso del mio cartellino 71.500 lire in questo estratto dal catalogo ufficiale del 68 vediamo l'altra referenza 75 15 con clessidra lata stampata e senza crociera dividere il quadrante ho poi trovato un collezionista inglese che lo ha nella sua collezione con clessidra lata applicata da notare la dedica sul fondello che riporta la data 1965 ma anche nella mia collezione di ritagli di pubblicità di longin d'epoca ho scoperto di avere a disposizione una pubblicità che parla del 75 15 come referenza guardiamo se la troviamo al volo non sono queste eccola qua 75 15 75 15 che costava esattamente 71.500 lire esattamente come riporta il cartellino del mio del mio orologio della scatola simpatica e questa pubblicità è risalente a risalente a non lo so però basterebbe riuscire ad adattare questa automobile per capire dovrebbe essere una lotus secondo me verde così è una lotus siamo comunque negli anni 60 fino anni 60 perché le macchine formula 1 erano fatte così a sigaro non c'erano ancora gli allettoni le ali mobili o altro da dire no non saprei cosa aggiungere a questo bellissimissimo longin 75 15 con il calibro 30 l anzi sì qualcosa da aggiungercelo riguarda sempre la fase di studio dice per cercare di capire le varie situazioni come avete magari potuto vedere dai cataloghi o dal delle pubblicità dell'epoca che secondo me sono una delle fonti principali per da studiare per capire se come era fatto un dato orologio di qualsiasi marchio no perché se noi andiamo a a cercare le fotografie su internet troviamo degli orologi che possono essere degli acrocchioni no detta così papale papale a volte uno va a cercare una data referenza vede la foto dice sì è uguale al mio senza sapere che magari è proprio il suo che è stato venduto 3 4 anni prima ma ciò non significa che è corretto ok quindi le pubblicità d'epoca o i cataloghi ufficiali originali del periodo sono la fonte migliore per vedere come era fatto quel dato orologio quale corona aveva quale aspetto il quadrante poteva avere nelle varie configurazioni un po come ho fatto io e la cosa difficile è sono le le fibbie perché personalmente io in qualsiasi pubblicità o in qualsiasi catalogo l'orologio trus fanno sempre vedere così piegato in questo modo in modo che non riesci a vedere come è fatta la fibbia non sai di quale materiale è di quale fattura è e quindi è un po difficile riuscire a capire qual è la fibbia corretta per quel dato modello sì come fanno gli orologi ai ti dicono in quel periodo lì c'era questa in quel periodo c'era quell'altra qualcuno che si ricorda ok perfetto però avere la certezza matematica di vedere come è fatto come ho fatto io col quadrante no è difficile stessa cosa dicasi per la corona è un buon sistema quello di guardare le pubblicità per vedere come era fatta la corona poi tra il dire il fare c'è di mezzo il mare perché una corona magari a cappello di prete di longin te l'avevi fatta a cappello di prete poi c'erano da 3.5 mm di diametro 3 75 4 come fai a riconoscere così da lontano da una fotografia di pubblicità magari anche sgranata qual era il diametro vero corretto per quel modello lì c'è la cappello di prete la mette a cappello di prete anche te c'è poi un'altra cosa da aggiungere che io c'è una parte del sito web di longin ufficiale sito web longin.it nel quale è dedicato a watch collector cioè hanno restaurato determinati orologi vintage li hanno restaurati loro chiaramente che li vendono a un delle cifre che sono dei botti dei botti giganteschi 3.000 franchi 3.500 franchi perché hanno restaurati loro uno dice devono essere perfetti no in realtà non è propriamente così perché ho visto un paio di modelli sempre sul sito web lì ufficiali che sono in vendita vintage degli anni 60 c'è un flagship ad esempio che loro gli hanno montato una corona toroidale un pochino grande e poi sempre in quella pagina lì nella loro pagina del sito web sfogliando si vede la pubblicità dell'epoca originale e vedi che ha una corona diversa differente a cappello di prete mi sembra no quindi se per longin è accettabile che la corona sia differente da quella del 1961 dicono sì va bene questa per vendertelo a 3.000 io penso che possa che possiamo anche tutti metterci l'anima in pace e accettare un quasi un qualsiasi tipo di corona su un orologio vintage perché se te la certificano loro è addirittura differente no sì ma va bene così hanno magari più l'asco invece magari noi appassionati vogliamo vedere proprio quella precisa che c'era sulla pubblicità dell'epoca come sapete le corone sono le prime cose a scomparire quando succede quando si rompe la class sostituivano con una generica una cosa che deve funzionare quindi niente di che era solo per dirvi per rendervi partecipi allora ragazzi l'orologio l'avete visto ve l'ho fatto vedere con tutti quei suoi bellissimi con la sua bellissima fioritura il logo la classidralata in rilievo le sfere a bastone in oro è un gioiellino è un gioiellino volete vedere come sta il polso io ve lo faccio anche vedere come sta il polso però poi dopo vi mettete a piangere che siete invidiosi io ve lo dico diciamo che il perfetto dress watch in oro super sottile quadrante chiaro senza complicazioni di sorta o eccolo qua e cosa gli si può dire qualcosa che vuol dire eccolo orologino veramente super dress watch elegante mamma mia che bello che completamente in oro e io ce l'ho e voi non ce l'avete va bene ragazzi io ve l'ho fatto vedere come diceva rocco più di così non posso fare a va a finire nella mia scatola aspettate però che nella scatolazza dei login che però è arrivata a 10 a 10 unità come potete vedere è arrivata a 10 unità ne ho ordinata un'altra non è ancora arrivata e nell'altra e li dividerò per anni no qua ci metto la decade del 60 del 50 dal 50 al 60 nell'altra del 70 all'80 e così possono incominciare a riempirsi entrambe e simpaticamente la scimmietta vintage che è quella con la barbetta bianca quella un po più vecchia c'erano due di scimmie c'erano una giovane che vuole gli orologi moderni e una con la barbetta bianca che vuole gli orologi vintage e quando li vede è arrivato caramaschi gli ha fatto lui 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 lo sa tutto va bene dai ragazzi cosa dovete che vi dico spero vi sia piaciuto il mio nuovo orologio vintage il mio bellissimo longinetto e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua